Giorgia Pilotto, fisioterapista e lavoro presso lo studio di ipertocco fisioterapia a Fiasso d'Artico in provincia di Venezia. La mia relazione è uno studio che si occupa di capire quanto efficace possa essere l'applicazione di una metodica che è la fibrolisi meccanica sulla sindrome del tunnel carpale comparata ad un trattamento tradizionale con tutore di mobilizzazione. All'interno della relazione è stato reclutato un campione di 21 pazienti che è stato valutato, trattato e dopodiché rivalutato per vedere quanto le due tecniche fossero efficaci. Tutti i dati poi sono stati raccolti, sono stati comparati e come risultati finali abbiamo ottenuto che i pazienti sottoposti alla tecnica sperimentale di fibrolisi hanno ottenuto un miglioramento generale ma non comparabile o comunque non superiore a quello ottenuto col trattamento di solo tutore. Concludendo, non possiamo dire che la fibrolisi sia più efficace del trattamento con tutore e che comunque però i pazienti abbiano ottenuto un miglioramento generale. Grazie per la visione!